un uomo sta passeggiando in strada quando vede una situazione molto singolare ossia vede due bare trasportate da sei e sei becchini un uomo con un pitbull al guinsaglio che segue queste due bare e una fila enorme di persone dietro a quest'uomo con questo cane al guinsaglio allora sto passante si avvicina a quest'uomo e gli chiede chiedo scusa signore, mi scusi, capisco che è un momento molto delicato ma chi c'è nella prima bara? e sto signore, beh in realtà nella prima bara c'è sta mia moglie ah e com'è morta? il pitbull qua l'ha sbranata, gli ha afferrato la giugolare, è morta sul colpo mamma mia ma è terribile, anzi mi perdoni per la domanda ma invece nella seconda bara chi c'è? eh in realtà nella seconda bara c'è misocera ah mamma mia ma è stata anche lei sbranata al cane? eh sì eh praticamente l'ha zannata alla giugolare anche a lei è morta sul colpo allora sto passante gli fa senta ma gli posso chiedere una cortesia mi dica ma me lo presterebbe sto cane per favore e questo mettete in fila grazie a tutti